Questa mattina nella Sala Consigliare del Comune di Pordenone è stato presentato il nuovo piano per la prevenzione e il contenimento dell'inquinamento. Il piano coinvolge il Comune di Pordenone assieme ad altri nove comuni ed entrerà in vigore il 15 febbraio. Ha come obiettivo la limitazione dell'inquinamento atmosferico dovuto all'emissione dei veicoli, degli impianti di riscaldamento e dei fuochi. Erano presenti i sindaci dei comuni partecipanti e l'assessore all'ambiente del Comune di Pordenone, Nicola Conficone. È di fondamentale importanza lavorare per tutelare più efficacemente la salute dei nostri concittadini ed è questo lo spirito che ci ha portato ad assumere questo provvedimento che fatto nuovo ed importante è condiviso da altri dieci comuni dell'area pordenonese. Novità del piano, al di là della sua estensione, è anche il fatto che contiene delle misure emergenziali di limitazione al riscaldamento e alla combustione dei fuochi che verranno attivate su indicazione di ARPA ma anche delle misure stagionali di limitazione al traffico. In particolare i veicoli più inquinanti non potranno circolare dalle 16 alle 20 dalla domenica al sabato all'interno del ring nel solo comune capoluogo. Chiaramente la collaborazione dei cittadini affinché queste misure siano efficaci e producano gli effetti desiderati è fondamentale per cui l'attivazione del piano sarà accompagnata da una campagna di comunicazione a tutte le famiglie dei comuni interessati che contano circa 150.000 abitanti verrà recapitato un opuscolo che specificherà le misure e le regole da rispettare.